Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita per un altro interessantissimo progetto Prima di tutto ho racchiuso qua dentro uno scheletro, più che altro si è racchiuso da solo qua dentro Manzan, mori male, grazie Perché poi penso cerchino direttamente l'acqua, nel senso loro si buttano nell'acqua per appunto non morire ma poi tanto vengono massacrati lo stesso In tutti i casi iniziamo con il progetto di oggi, c'è un progetto a dir poco epico E' veramente molto, io voglio come li trovo, certe cose come le trovo Allora ci servono, ripiter a manetta, probabilmente non ci basteranno 24, però li prendiamo Redstone comparator, redstone a manetta, un bottoncino, qualche dispenser penso 4 possano bastare TNT, ci serve gli slime block, ci serve anche uno sticky piston Dopo lo sticky piston, che ci serve? Eeeh, ci penso... dovremmo essere a posto per ora Un casino di blocchi da costruzione, quello si Tipo questi, vabbè, polished under site, possiamo utilizzare questo Ci servono delle scale che ovviamente non ho Eeeh, vabbè dai, tanto non ce le ho mai Eeeh, e che altro ci serve? Possiamo penso iniziare per ora? Sì dai, intanto dobbiamo trovare il posto per dove farla Nel senso, nel senso ci serve sì un bel posto su dove piazzare questo congegno Che è abbastanza interessante, il problema è che serve appunto molto spazio E lo vorrei fare, tipo da quella parte Sotto la... sotto la collina, quindi faccio una parte sopra la collina e una parte sotto Vediamo se riesco, eh Una ender pearl, intanto mangio Grazie, ottimo Tipo una cosa del genere, eh Dove posso farlo? Boia vacca Sono abbastanza indeciso sul dove Perché mi serve? Allora, un casino di... una parte molto alta e una parte molto... cioè, basta, sì, ok Se io tipo lo faccio qui, no, qui non mi piace Madonna, devo trovare un punto adatto Non ci ho... cioè, non ci sono... non ci ho lavorato prima Trovare il punto perché pensavo fosse semplice Invece ma... no, invece no, invece no Mi serve anche uno spiazzo più che altro Ah, possiamo farlo nel deserto E... fanculo vado a farmi le scale Sì, lo facciamo nel deserto, da quella parte Perché lì c'è la mobarena Lo facciamo... possiamo fare anche lì, tirando da quella... sì, lo facciamo lì Allora, lo faremo qua Io intanto devo provvedere a togliere tutta questa erbaccia Madonna, poi quando... perché se non lo sapete poi la... che... voglia... Bug Ok, grazie Bene Se riusciamo magari a fare qualcosa di interessante Comunque adesso magari ripulisco un po' qua Ci arriviamo tra pochissimo Allora, riprendiamo subito e iniziamo il tutto La prima cosa che ci serve è posizionare un pistone appiccicoso Dopodiché ci servono degli slime block Quindi uno, due, tre... Allora, facciamo un tre per tre per ora Un tre per tre Poi lo allarghiamo di uno qui, uno qui Uno qua E uno qua Quindi si dovrebbe muovere senza problemi E vediamo Intanto ci mettiamo i repeater Ci servono un botto di repeater Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto E li distanziamo tutti al massimo Li mettiamo ovviamente Perché se ne mettiamo otto E poi li lasciamo al minimo Beh Quanto Non averli messi Vediamo se si di Se parte Beh magari lo mettiamo tipo una cosa del genere Un bottone qui Dammi il bottone, grazie Perché non funzioni? Ah, magari perché non prende proprio il segnale da lì Probabile Fammi togliere questo No, boia Ah, forse sono troppi gli slime block Tipo faccio così Dovrebbe partire adesso, giusto? Ok Quanto ho notato? Alto uno Ottimo Va bene così Va bene così Rimettiamo questo E lo distanziamo al massimo Ottimo Fatto questo Dobbiamo procurarci Una Ah, ci serve un altro sticky piston Che io non ho provveduto a prendere Intanto comunque ci Facciamo un bel clock Devo Andarmi a prendere No, diverse cose Perché mi manca anche una leva E quindi ci vediamo tra pochissimo Allora vi faccio vedere tutti i miglioramenti A parte che ho preso le scale Vi faccio vedere un po' quello che Ho fatto qua sopra È un Soltanto un clock Ho costruito qua sopra Molto easy easy Eccolo qua il clock Semplice Tac, 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 tac E qui c'è un dispenser con la faccia rivolta verso il basso Adesso scendiamo molto rapidamente Boom No, 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 no Boh, io non ho saltato Va bene E comunque Gli 8 ripeterò L'ho spostato in una fila E adesso ce ne mettiamo altri 8 qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E li distanziamo tutti al massimo Ok E eccolo qua Tac, tac Tac Ancora Bene Qui cosa ci andiamo a mettere? Ci andiamo a mettere dei dispenser di TNT Allora vediamo eh Se riesco Tac Uno qua Poi dei blocchi ci servono Uno qui Così E uno lo mettiamo qua Così Ottimo Qua dentro ci andrà la TNT Esatto Però se io accendo Adesso mi avviene un dubbio Mi avviene un dubbio Se io accendo questo Non è che mi parte anche il dispenser? Molto probabilmente sì Questo sì Ci metto dentro tipo della Redstone Me la lanci? No Sei bravo tu Ottimo 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 Questa è una buona notizia Perché sennò avrei dovuto fare un casino Comunque Distanziamo questi E qui siamo a posto Ora Cosa andiamo a fare noi? Andiamo a fare il meccanismo Che ci permette l'azionamento Di tutto Che è molto semplice È veramente Molto molto semplice Allora Facciamo partire da qua magari Ci serve un bottone Che sarà l'inizio di tutto Quindi Mettiamo tipo qua Bottone Da qui Ottimo Da qui lo facciamo partire E lo facciamo andare Prima qua Poi continua Altro repeater Dammi repeater Dammi repeater Dammi repeater Bellissimo Lo mettiamo qua Eccolo qua Un altro ritardo E qui Ci siamo? Perfetto Lo potevo mettere anche lì Ma è uguale Quindi Per questa parte siamo a posto Questa parte è molto molto semplice No grazie Qui non mi interessi Mettiamo qua E Ah dobbiamo metterlo Sì Non c'è problema Tipo una cosa del genere E Così E così Perfetto Quindi se io adesso metto Della redstone Qui Qua E qua Dovrebbe partire Vediamo se funziona il tutto La redstone è partita Esatto Bene Ha funzionato tutto Alla perfezione Direi alla perfezione Ci siamo? Benissimo Adesso Cosa ci serve? Cosa ci serve? La TNT Dobbiamo mettere la TNT E occhio a non piggiare il bottone Perché sennò è un casino Ne mettiamo tre per lato Uno, due, tre Uno qua Quindi Uno, due, tre No Qui ho messo quattro Uno in più Eccola qua E altre tre le mettiamo qua Uno, due, tre Ci siamo? Tre Tre E tre Perfetto Ora 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 Qui il meccanismo è tutto pronto Dobbiamo soltanto rimettere quello Dobbiamo riempire quello Come lo riempiremo? Beh adesso andiamo a prendere tutto l'occorrente Ovvero ci serve Vabbè una cesta Un hopper E Delle frecce Voglio Tantissime frecce Voglio Una quantità di frecce Incredibile Esatto esatto Sì una quantità di frecce incredibile Perché ci serviranno veramente tante da sparare Adesso vi faccio vedere perché Come funziona il tutto Sto fatemi Arrivare là più in fretta possibile Con le enderpearl Tanto ne ho A quantità industriale E Eccoci qua Eccoci qua Andiamo a prendere tutte le frecce di cui dispongo Che sono veramente tante Vediamo eh C'ho quasi riempito l'inventario Ottimo Più ci serve una cesta Che Di cui non dispongo Infatti Perché Ah queste le scale E Dove sta Dove sta Dove sta Dove sta Un hopper Ma basterà un hopper Perché tanto Va bene un hopper Un hopper Un hopper Un hopper Qui si Facciamo una cosa Che dato che non ho voglia Andarmi a prendere Dell'altro legno Che ne ho presa Una quantità incredibile Guardate come si fa In questi casi Che ho fatto? Ah ho rotto quello Sono un genio Così? Dammi la cesta Dammi la cesta Non mi da la cesta Non c'è niente da fare Io non lo so Ah me l'ha data Ottimo Quindi devo rimettere Il nether Perché prendi? Ah non posso fare nulla Ok ottimo Buono E questo è il tipo Il meccanismo Che si usa Per andare nel Sopra il nether Quella cosa Che Si salta con la Con le enderpearl Si fanno Quelle cose lì Sì sì Più o meno Funziona così Ok Dammi tutte le enderpearl Che hai Ottimo Ottimo Questo ce l'abbiamo Mettiamo qua dentro La netherworld Che attualmente Non ci interessa E via Torniamocene Di là Come sperperare Le enderpearl Si più o meno Così Ma poi posso anche Non correre Solo enderpearl Only enderpearl Dove sono arrivato Nell'acqua Normale Bene Vediamo Di salire Dobbiamo rifarci Tutto il giro Ovviamente Tac Ok Saliamo Ancora Ottimo E poi Cosa andiamo a fare Adesso Adesso vi faccio vedere Vabbè Penso l'avrete intuito Non è difficile Il Quello che vorrò fare Ovviamente Sparare frecce Su Sul Cosa Allora Tipo facciamo Una cosa del genere Tac Ah E questa era Addirittura Una trap chest Ci mettiamo dentro Tutte le frecce Perfetto Adesso ne spariamo Uno so Uno stack Vai Adesso vedete Che Vedete Quante Le frecce Ma Voglia Non ci prendono Perché Dove cadono Dove cadono Fammi vedere un po' Dove cadono Fammi cadere Ok Allora La maggior parte Sono cadute fuori Ottimo Fantastico Quindi Ecco Infatti cadono Qui Bisogna portare Più avanti Il Dropper Esatto Bisogna portarlo Più avanti Lo porteremo Anche un paio di blocchi Più avanti E vediamo cosa succede Ok Allungato tutto Adesso possiamo far partire La raffica Di frecce Che si stanno Schiantando tutte Sugli slime Block Perfetto Ne facciamo schiantare Un altro po' Vediamo adesso Come siamo messi Ah ma le prende random Non lo sapevo Fantastico Ok Penso che per la dimostrazione Possa bastare Ok Adesso scendiamo anche noi Posso fare una cosa Un trick Boom Aia Ah che Boh Endermite Mori male Mori male Mori male Grazie Grazie Solidamme Questo che ho rotto Ecco Un due tre Perfetto Questo è il No No Ah madonna Non ci devo passare vicino Perché poi le rilaccolgo Sono un idiota Va bene Siete pronti? Io spero tanto funzioni Perché voglia vacca Se non funziona Pronti? Boom No 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 sono un idiota 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 Mancava lo slime ball Ok Sono passate circa Sette ore Dall'ultima clip E Sono pronto Ho ripreso tutto Ho rifatto tutto Adesso Non ci resta che Mettere la faccia da creeper Per Buon auspicio Tirare la leva Aspettare che Le frecce facciano il suo Il loro dovere Quindi si piantino Sui miei fantastici slime block Poi non si orientano Come gli pare Io non lo so Perché fanno Vabbè comunque Più o meno Un po' che le abbiamo piazzate Via Solo da una parte La parte sinistra E poi è decentrato Forse Sì forse l'ho un po' Decentrato In effetti Ok spegniti Grazie Magari ricostruendo Infatti è un po' Decentrato Però penso vada bene Lo stesso Adesso ci provo Io lo dico Smetto di giocare a minecraft Giuro Smetto Finisce la serie Qua eh Via Vai Forza Sì 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 E dai No No Avete Avete visto Avete visto Io dico Io dico solo Avete visto E se È l'epicità L'epicità Poi uno viene qua Magari le raccoglie L'epicità Tu voglio la vacca Questo è l'ideale Per difendersi In un Server Che ne so Un pvp Un server a fazioni È fantastico Lo mettete su un castello Premete Siete protetti Alla grande Allora Ricapitolando Andiamo un po' Là Dobbiamo spostare Quello Di uno Un quadrato Più a destra Sono Quanti ripiter 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Con massimo ritardo Questi sono 1 in meno 7 E qui Ce n'è un altro In più Quindi Per questa fila Sono 9 Per questa Sono 7 E poi qui ci sono Le varie TNT Mi sono rimaste due Quindi manco posso ricaricare E Servono 3 TNT E Uno che le spara sopra Boia va a casa Noi però lo devo rifare Lo devo rifare Assolutamente L'unica cosa Adesso voglio spostare Un po' più a destra E No più a sinistra Uno più a sinistra Il Il dispenser Ci riproviamo Perché poi è una figata Incredibile Poi le frecce Non si spregano Nemmeno tante Cioè nel senso Si possono anche riprendere Allora Fammi Fare una cosa del genere Quindi qui Non ci dovrebbe essere nulla Infatti Ottimo Qui ce le prendiamo tutte Ci prendiamo anche l'hopper Sperando di non farlo cadere No Non ce l'ho fatta Va bene uguale Ok Ci prendiamo anche questo Il dispenser Ottimo Almeno il dispenser Sai Allora Uno più a destra Vuol dire che devo fare Una cosa del genere Mi basterà la redstone Sì mi basso la redstone Aspettate Quindi devo Alzarlo di due Metterlo qua E metterlo là sotto Non so come farò Fondamentalmente È un casino Ho un secchio d'acqua Sì però No faccio Faccio i danni Come faccio a scendere Non scendo Sì no Faccio una cosa del genere Sperando di riuscirci Allora Intanto Questo Poi tanto dobbiamo scendere A prendere Più a sinistra Giusto Fare una cosa del genere No Sì Più o meno Più o meno Dobbiamo prenderci la La nostra fantastica Il nostro drop Ecco L'hopper E Torno di sopra Vediamo un po' Di riuscire A mettere tutto a posto Magari vado a prendere Anche questa Questa Sì questa pietra La Sì dai che non mi ricordo il nome Comunque la prendo Magari faccio Vado a letto Che almeno Mi si taglia anche la pioggia E vediamo un po' Se riusciamo a farlo di nuovo Bene siamo di nuovo pronti Iniziamo a tirare Le frecce Vediamo se questa volta Sì Perfettamente centrate Più o meno Adesso è spostata All'indietro Non ce la farò mai Non ce la farò mai Comunque Dai penso possano andare bene Adesso spegniamo qua Scendiamo Andiamo lì Poi farò tutti i miglioramenti Del caso Bisogna un po' Eeeh Prenderci la mira Sei Boom Ho colpito anche il cavallo Bene Beh fantastico Dai non si può Non potete dire nulla Questo meccanismo È veramente Veramente epico Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se non lo avete già fatto Di condividere il video Su facebook Per farmi conoscere a nuove persone Io vi aspetto A un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi